Ciao, bentornato al programma TV di oggi con notizie come. Ilari Blasi avrebbe reagito malissimo ad una frase pronunciata dal suo ex marito Francesco Totti Ecco cosa è stato rivelato.Quasi un mese e il gossip attorno il divorzio di Ilari Blasi e Francesco Totti non vuole arrestarsi dopo quei comunicati pubblicati lo scorso 11 luglio da parte di entrambi sulla fine del loro matrimonio Questo perché, nonostante abbiano chiesto di rispettare la loro privacy, nessuno dei due ha specificato cosa realmente è successo e per questo motivo si sono fatte molte ipotesi sulla notizia dell'estate 2022 Totti e le parole che hanno fatto infuriare l'Ilari.C' è da dire che tutte queste notizie sono solo voci di corridoio e nessuna di queste è stata confermata dato che per ora, la coppia non intende parlare della loro vita privata rispettando la decisione di tutelare i loro figli Anche se, pare, sia stata proprio la loro figlia più piccola, Isabel, a far intuire ad Ilari che qualcosa non stava andando per il verso giusto La conduttrice già sospettosa avrebbe ingaggiato un ispettore privato che avrebbe scoperto il tradimento dell'ex calciatore Questo perché, inizialmente Totti aveva levato dalla sorella della conduttrice la gestione dei suoi social per via di alcuni messaggi particolari e un po' troppo familiari che gli arrivavano in direct Inoltre, pare che Isabel abbia confessato a sua madre di aver conosciuto due bambini che altro non sono che i figli di Noemi Bocchi, donna con la cui Totti sembrerebbe avere una relazione Dopo questa versione dei fatti pubblicata sul settimanale Chi, Francesco Totti pare essere intenzionato nei prossimi giorni a rilasciare una dichiarazione che metterebbe fine a tutte le ipotesi Come quella in cui sembrerebbe che sia stata invece Ilari ad aver avuto uno scambio di messaggi particolari su Instagram con un giovane personaggio del mondo dello spettacolo Poiché Totti dopo averlo scoperto avrebbe deciso di far finire le loro nozze Le indiscrezioni.Ancora, secondo un'altra indiscrezione, pare che i due da tempo fossero una coppia aperta che frequentassero altra gente a patto che le loro relazioni extracognugali rimanessero all'oscuro dei riflettori Pertanto, quando Totti si è fatto beccare con Noemi Bocchi, Ilari sarebbe andata su tutte le furie e avrebbe deciso così di mettere uno stop al loro matrimonio per via da parte dell'ex calciatore di non aver mantenuto il patto Negli ultimi tempi, Alex Nuccelletti, amico stretto dell'ex capitano della Roma, ha dichiarato che Francesco si sente di aver dato tutto ad Ilari in questi anni e di avere la coscienza pulita sotto questo punto di vista Queste parole sembrano Noon essere state molto gradite da parte della conduttrice che nonostante Noon abbia replicato ha voluto rimanere in silenzio e come si sa a volte è proprio il silenzio a svelare tutto e questo taceri da parte della Blasi Noon farebbe che confermare il fatto che le parole del suo ex marito l'hanno fatta infuriare Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie Ciao e ci vediamo nei prossimi video Grazie per aver guardato il video Grazie per aver guardato il video Grazie per aver guardato il video